C'è? Ci sono? Si, 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 vai, tre, un po' manico Ok, vale Ah, una domanda, aspetta, prima di partire Io mi ero fatta una sorta di prefazione Però tu che la fai tu dopo Su di lui E' l'intro? L'intro l'abbiamo fatto Già, e poi veniamo da quello Ok Ci siamo? Sì, prego Conti tutti Ciao la mia, andiamo Frade Rec Vabbè Qua erano tutte le partite? Sì, sì Ah, aiuto Allora, farò stare già da te allora, scusa No, perché venga la paratura appena non viene No, 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 sta bene Oh, caca, cazzo Poi c'è lì, c'è lì Pronti? Vabbè, caca, cazzo, lui rompe il cazzo Ci siamo? Sì, sì Tre, due Azione Tutto pronto per la sesta puntata di Tre Uomi a Radio La Radio e TV Super ospite Leo Lippolis Si parte Vaffanculo La mano che avevamo detto che è gennato la sua regione del gruppo La popola non l'avete, la popola non l'avete neanche bisogno, c'è neanche bisogno di voi Chiamiamolo il Federico Mario Hart Tutti belli si dica Intro PS Uno E basta Azione Altro che sigla Oggi si aspetta veramente il super ospite dell'Eolipoli Veramente contenti, tutta la squadra è a mille Perché veramente quest'oggi c'è veramente, veramente un super ospite Quattro volte veramente Ma siamo a scuola, siamo di selfie Tu già vuoi andare subito a incollerti con la sposa Ci siamo? Sì Intro ospite uno Sì, si intro Scusate, proviamo ora No, no, una volta sola Cazzo non è scusa? Quella è la sigla Non la conosco Bellissima Finito Dai ragazzi Non bene Lo tolho ripreso Fine Aspettavo Pronti, pronti Sì Un saluto da Le umano a radio Da Federico Mario Hart L'ospite della prossima puntata AM Tech Uno Tech Arresti un po' la sua Ma dov'entare sei chi Italia Uno Vergogno Bellissimo Bravo Ottolo Cazzo te credi Ah dai Playback Playback Ah dai C'è Gennaro Infraluce 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 Sì C'è un cazzo C'è tipo C'è un cazzo Cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo No Oh perfetto Se lo chiamo i bici No, io lo posso chiamare Se lo vuoi che facciamo l'individo ufficiale Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamo Degli che ci sono pure io Sì No, allora lo chiamo io Ok Lo chiamo C'è un cazzo C'è un cazzo Che devo fare? E' ora la seconda parte Torni Vado 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 uche Prendiamo un'altra E' tutto sottile, gialle, russi Bella e salissima rossa No ragazzi No invece sarebbe, si qua dicono una cosa Ragazzi Iniziamo con l'ospite Iniziamo a fare smontare, con Zerucci poi l'avamo a rimontare No dai, ci sbrighiamo Ora facciamo una cosa Sono brutto io No 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 no, tu non devi, non devi No dai, iniziamo Aspetta 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 Fede Se lui sta in bella e lui suona No 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 dai No, vado da qua C'è una cosa più rossa, io la sopra che stai facendo Riprese Backstage Stai facendo Stai facendo Ci siamo rec, non sei rec Autore sei rec Stai facendo Intro uno Intro uno No 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 no, spaccato No no no, spaccato Non ho voglia di video di piscine nette E' questo, posso E' questa, posso Eh no no C'è solo a me peggio Io non ne ti tiro il gesso Io ne colgo il naso Ti dà fastidio Non è che fai il naso Non so se ti dà fastidio Eh perchè quello è Con ma lei è drogato Non ti dà il naso Hai questo Quando questo dico Ti devo dire così Se ti dì Non si droga così Pronti tu Melo? No Vai Roti, forza Allora rientriamo Rientriamo? Rientriamo dalla spazio interna Dai tutti i recchi, tutti i recchi sono, dai Hai messo Gimison? Sì, Gimison Ready? Chuck, intro PS1 Azione I nostri vocalist si sono calmati perché oggi la super puntatona numero 8 aspettiamo appunto Yannick Ciao a tutti Peppe Rizzo Tranquilli, tranquilli, tranquilli Arribacciamo? Arribacciamo Ragazzi sto facendo fare dei bigiamini tutti quanti bianchi con le strisce nere tipo Juventus Ho scritto, ho scritto 001 Peppe Rizzo Rochef Wanted Alcatraz Mi hanno fatto una Alcatraz, figliore, niente, non puoi dichiarare Ok, dai Guarda, vieni qua, non mi ricordo Non ci conosciamo da molto tempo Guarda, noi no, sogno uno pericoloso Guarda, fai io, e io Ragazzi è l'occomorio Che potremmo fare? No, no, no Allora, io Per lui, per lui, per lui, per lui, per lui, per lui, per te Devi cliccare su, 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 sopra Guarda, qua Io, faccio gli affari miei, ok? Bravo Che possiamo fare adesso? Fine, sono i miei sponsor, sono i finali Che sono, ho solo un di padre nel SEMU Ehm, vediamo un taglio Prendete per il culo Vediamo? No, me la faccio, me la faccio 3, 2 3, 2, è pronta E poi, ecco, ho scritto da in realtà E poi che c'è più? Niente Ecco, finiamo Unchia Eh, cacca Quindi la prossima settimana, ragazzi, due puntate Penso di sì Perfetto Però, cazzo, nel backstage mettetevi qualche volta, non ci sono mai Come no, ci sei, tu sempre ci sei Arrivi sempre tardi L'altra volta... Ah, ecco, uno stronzo dice come ci sei sempre L'altro invece dice, arrivi tardi Ma infatti ti metto quando ti metto con me Ah, mi metto con me Tipo quando faccio il Chuck, quei pezzi lì Ciao Ma com'è, lo farini c'è mai Mettemola Infatti ora lo sto facendo un po' Ah, mettiti alla luce, ma non hai a te Ma meno meno, guardiamoci assieme, vieni qua Guardiamoci assieme Fatti una cosa, porno Una cosa porno Un po' porno Un po' porno Proprio Minchia Ah, bravo Allora Figlioni, questo è... Senza alzare un quadro Quindi voi... Anzi così Prova 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 Parlate così Poi dovete parlare al distante Facciamo una prova dell'audio Con le cuffie Prova 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 Sì, ma inserente non ho scritto più perchè aveva scelta Pietro della Worm Ah, ok Parlate? Vai, vai, ringraziamo il chef Prova, prova Prova, proviamo una notte Comparesi con Bob e con John Lennon Sei contento? Prova? Allora abbiamo room Tini Max, Tini Max One, two, one, two Tini Max Sì, se non così è L'ascolto sempre così sta Perchè sono sicuro che è qualcosa che non dipende da noi Allora Ehm, devo prendere il cellulare, ecco Aspetta, vai, vai Ok, Zenith Maledetto Maledetto, provo Avanti, avanti, avanti Ti comporti male Maledetto, dobbiamo fare un multiaugoso In tutti questi momenti E' un video Quanto tempo? Ma sbrigati Ma quale sono? Dai, quelli sono in viaggio Spero facciamo due pezzi Attore, ho dito, attore Attore, regista Registra 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 Dora Un panino all'olio Un panino e capasissi Ciao Non voglio niente Muoviamoci Non vado nel panificio così Dico, non sei pazza No, no, non stai Non c'è la delizia Nel tuo anno Facciamo Mancio, mancio Caccio prima che mancia Mancio, mancio Caccio prima No, no No Caccio seconda che mancia Tutti che mangiano No Andiamo se mangiare Fammi vedere quello che mangiamo Ah Che mangiate, anzi Ferma Più lontano, più lontano, più lontano Fermala così, precisa Giralo, fammi vedere cosa c'è all'interno C'è il pane all'olio Non so, la mente Mi mangi, si parli La macchina Non, non, non Scusi, metto calvete Ma che cazzo fanno Perché adesso stiamo fanno Le fanno Le fanno veramente Inutile Ma che vergogna No, bello, dai No, bello, dai No, no, no Ma sei il padre Così, che si aspetta Dico, è il ciccio Miocchio Ma non sei la paletta Ma c'è un vecchio Senza Ma è la camicia Io non c'era Non c'era Non c'era No, il club dei calvi Il club dei calvi Riprende Ci siamo, dai Intro E' abs E' curiosità E' un messaggio La cosa di numero di messaggio Scendo sotto a bene il gesso Andiamo Dai, dai, forza Ti vedi lo stesso Dai, forza Vedete che siamo Non trovo il gesso Qua, qua E' qua sopra Ah, scusate Scusate Senza offese Io solo no Buona, sì Ma questo è il pasto Allora, ascoltami Luca Allora, ascoltami Allora, ascoltami Buona, buona Ti dimaxo Ciao